Siamo con Agostino Romano, direttore sportivo del Pomiano. Allora Agostino, gol beccato nel primo minuto di gioco, poi dopo un po' per sfortuna, un po' per troppa convinzione di questa partita, non si è riuscito a ribaltare il risultato. Io sto da ieri sera a dire che questa partita la perdevamo, abbiamo perso, perché siamo rimasti a Nocera ancora con la testa e questo è quello che si paga. La squadra è venuta qua a fare la partita che doveva fare, quindi sempre per terra, poi hanno trovato il gol all'inizio partita, quindi tutto è stato più semplice. Però noi non possiamo regalare tre punti così, abbiamo sbagliato. Oggi dopo quattro grandi prestazioni abbiamo sbagliato e ci sta. Infatti, allora quindi la squadra l'hai vista già un po' spente, non motivato come al solito? No, ma quando vinci troppe partite, una squadra come noi a volte non è sempre positiva, perché l'entusiasmo, siamo una squadra abbastanza giovane, quindi io da quando all'inizio settimana dicevo stiamo tranquilli, stiamo tranquilli, stiamo tranquilli, non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto niente, però purtroppo ci sta, siamo giovani, quindi ci siamo fatti prendere un po' dell'entusiasmo. L'ha notato dolente la vittoria del Brindisi a Matera? Sì, sinceramente mi aspettavo una vittoria del Matera, perché il Matera era una squadra attrezzata, pensavo che il Brindisi almeno qui cadesse. Però noi non dobbiamo guardare il Brindisi, noi dobbiamo guardare che dobbiamo fare un campionato di vertice, se è possibile vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. E fino adesso abbiamo dimostrato che abbiamo le potenzialità per farlo. Poi oggi è venuta la sconfitta, che sinceramente mi dispiace molto, perché era una striscia positiva che vincevamo in casa, che durava da più da dieci partite, considerando l'anno scorso, quindi mi è un po' di spiace. Grazie, così.